bella a tutti ragazzi e benvenuti sul mio canale io sono luca 7392 e bentornati in questo nuovo video ragazzi questo che sto facendo è un video messaggio voglio lasciare un messaggio a tutti gli iscritti del mio canale vi starete chiedendo e che cosa ci dovrei mai dire ragazzi vi devo dire che io lunedì parto per la spagna e starò per circa una settimana fuori quindi volevo dire a tutti gli iscritti del mio canale di non disinscriversi dal mio canale perché tanto poi tornerò presto ragazzi quindi mi raccomando ragazzi non vi disinscrivete ci conto supportatemi come state facendo sempre lasciatemi like ai miei video guardate il mio canale in questa settimana in cui non ci sto così magari ci sta qualche video che vi piace lasciateci un like e ragazzi questo è un video molto breve voglio solo lanciare questo messaggio ai miei iscritti del canale continuate a seguirmi perché poi tanto tornerò mancherò solo una settimana in cui naturalmente dato che non ci sarò non caricherò nessun video nessun gameplay e ragazzi se il video vi è piaciuto lasciate un like e direi di farlo arrivare almeno a 50 mi piace dato che poi non ci sarò per una settimana perché parto per la spagna come vi ho detto e ragazzi ci vediamo quando torno dalla spagna a questo punto e spero di divertirmi così almeno quando torno vi dirò qualcosa di com'è andata farò magari un video così tanto mi porterò la macchinetta fotografica farò un sacco di foto e se ho memoria sufficiente farò anche un video da mettere sul canale e ragazzi come ho detto se il video vi è piaciuto lasciate un like iscrivetevi al mio canale per quelli che ancora non mi seguono e se non l'avete fatto iscrivetevi al mio canale e ci vediamo al prossimo video ragazzi bella a tutti ragazzi